I fioretti di San Francesco Capitolo I Come San Francesco in più cose somigliò Iesù Cristo E prima è da considerare che il glorioso Messer Santo Francesco in tutti gli atti e modi di sua vita fu conforme alla vita e modi di Cristo Però che, come Cristo in principio di sua predicazione elesse dodici apostoli ad disprezzare omni mondana cosa et seguitar lui in povertà et in altre sue virtù simile San Francesco al principio et fondamento dell'ordine suo elesse dodici compagni professori della altissima povertà Et come uno dei dodici apostoli riprovato da Dio si impiccò per la gola così uno dei compagni di San Francesco che ebbe nome frate Giovanni della Cappella apostatò et finalmente si impiccò per la gola Et questo, all'ieletti, è grande esempio et materia di grand'umiltà et timore considerato che nullo è certo di dovere perseverare fino alla fine nella grazia di Dio Et come i dodici apostoli a tutto il mondo furono maravigliosi in santitade et pieni di spirito santo così i santissimi compagni di San Francesco furono uomini di santa vita che dal tempo di Cristo et degli apostoli in qua il mondo non ebbe si santi uomini però che alcuno di loro furratto fino al terzo cielo come fu San Paolo et questo fu frate Egidio alcuno di loro cioè frate Filippo Lungo un tempo li fu toccato le labbra dall'angelo col carbone di fuoco come fu a Isaia profeta alcuni di loro come fu frate Salvestro parlava con Dio come l'uno amico con l'altro come fece Moises alcuni di loro volava per sottilità di intelletto fino alla luce della divina sapienzia come l'aquila Giovanni Evangelista questo fu l'umile frate Bernardo quale molto sottilmente esponeva la scrittura santa alcuni di loro fu santificato et canonizzato da Dio in cielo vivendo ancora nel mondo questo fu frate Rufino gentile uomo d'ascesi et furono così tutti i privilegiati di singular segni di santitade come nel processo si dichiarerà capitolo secondo di frate Bernardo da Quintavalle primo compagno di Santo Francesco primo compagno di Santo Francesco fu frate Bernardo d'ascesi qual si convertì in questo modo essendo San Francesco ancora in abito secolare benché già avesse disprezzato il mondo et andando vilissimo et tutto mortificato per aspra penitenzia intanto che da molti era riputato stolto et come pazzo era schernito et scacciato con pietre et fango da parenti et dall'istrani et lui con ommini inurie et schernie passava con molta pazienza come sordo et mutolo Messer Bernardo d'ascesi qual era dei più nobili ricco riputato et savio della città saviamente cominciò a considerare in San Francesco in così eccessivo disprezio del mondo la gran sua pazienza nelle ignurie et che già da due anni così abominato et disprezzato da ommini persona parea sempre più costante et paziente cominciò fra sé medesimo a pensare et dire per nullo modo può esser che questo non abbia gran grazia da Dio onde lo convitò una sera a cena et ad albergo accettando San Francesco n'andò con lui puosesi in cuor Messer Bernardo di contemplare i modi suoi et fattoli apparecchiare uno letto nella camera sua nella quale continuo ardeva omni notte una lampana San Francesco per celare meglio la penitenzia sua come fu in camera si gittò sul letto facendo vista di dormire similmente fece Messer Bernardo che come fu posto sul letto cominciò a drussare mostrando fortemente dormire onde credendo veramente che Messer Bernardo dormisse in sul primo sonno pianamente si levò mettendosi in orazioni levando le mani e gli occhi al cielo et con grandissimo fervore diceva iddio mio iddio mio et così dicendo con lacrime et non altro fino al mattutino stette solamente le predette parole ripetendo et questo diceva San Francesco però che ammirando contemplava la divina eccellenzia et maestà la qual degnava con discendere al mondo et per via del suo poverello Francesco disponeva salutifero rimedio per l'anima sua et di molte altre però illuminato di spirito di profezia vedendo le gran cose che mediante lui et dell'ordine santo suo iddio doveva fare et considerando la propria insufficienza et poca virtù sua chiamando pregava iddio che con la onnipotenzia et pietate sua senza la quale nulla puote la fragilità d'umana degnasse compiere quello che non poteva per lui proprio onde veduto et udito messer Bernardo le dette parole et diligentemente considerando quelle et i modi et gesti di sua contemplazione veduti per lo lume della lampana fu toccato et ispirato dallo spirito santo ad mutare in tutto la vita sua si che chiamato la mattina san francesco disse così io sono in tutto disposto nel cuor mio ad abbandonare il mondo et eseguir te in ciò che mi comanderai udito santo francesco questo molto si rallegrò in spirito dicendo messer Bernardo quel che voi dite è opera sima lagevole et grande che si vuol cercare consiglio al nostro signore jesu cristo pregandolo li sia di piacere in questo mostrarci la volontà sua insegnandoci come questo si possa per noi metter ad eseguizione però andiamo insieme al vescovado dove sta un buon prete al quale faremo dire la messa poi staremo in orazione fino ad terza pregando il dio che nelle tre aperture del messale ci dimostra la via che a lui piace che noi dobbiamo tenere rispose messer Bernardo che questo li piaceva molto ed così mossi n'andarono al vescovado udito la messa ed stati in orazione fino ad terza il prete a prieghi di santo francesco prese il messale ed fatto il segno della croce in nome di nostro signore jesu cristo la perse tre volte la prima volta occorse quella parola che disse cristo nel vangelo alle iovane che lo domandò della via della perfezione dicendoli se perfetto essere vuoi va vendi ciò che tu hai da a poveri et seguita me la seconda volta occorse la parola che disse cristo agli apostoli mandandoli a predicare non portate nulla cosa per via bastone o tasca calzamenti né danari volendo che per questo ammaestramento tutta la speranza loro del vivere dovessono porre in dio et tutta la intenzione loro avessono a predicare il santo evangelio alla terza apertura del messale occorse la parola che disse cristo chi vuol venire dopo me abbandoni se medesimo tolga la croce sua et seguiti me allora san francesco disse a messer bernardo ecco il consiglio che cristo ci dà va adunque et compiutamente fa quello che abbiamo udito che benedetto sia il nostro signore jesu cristo che ha degnato mostrarci la evangelica sua via udito messer bernardo questo si partì et prestamente vendè tutto ciò che avea qual era molto ricco et con grande allegrezza distribuì omnicosa a poveri vedove pupilli orfani chiese monasteri et spedali et in omnicosa fedelmente et provvidamente san francesco con grande amore li aiutava veduto un buono uomo della terra che aveva nome messer salvestro come san francesco dava tanti danari per l'amor di dio e te faceva dare costretto da cupidità e tavarizia disse a san francesco tu non mi pagasti interamente mai delle pietre che comperasti da me per racconciare la chiesa ovvero la casa da che tu hai danari pagami maravigliato san francesco di sua avarizia non volendo contendere con lui come vero osservatore del vangelo mise le mani in grembo a messer bernardo e piene di danaro le mise in grembo di messer salvestro dicendo che se ne voleva più lo dicesse che gliene darebbe ma messer salvestro contento e allegro si partì e andossene a casa pensando la sera che fatto aveva il dì e ricordato di sua avarizia e considerato il gran fervore di messer bernardo e la santità grande di san francesco la seguente notte e due altre appresso da dio ebbe questa visione cioè che di bocca di san francesco usciva una croce d'oro la cui sommità toccava il cielo e le braccia si distendevano da oriente fino ad occidente onde per questa visione vendè tutti i suoi beni e diede per dio poi si fece frate seguitando santo francesco ove in tanta grazia di dio venne che parlava con lui come l'uno amico parla con l'altro come più volte provò san francesco e più innanzi si dirà similmente messer bernardo tanta grazia ebbe da dio che molte volte era ratto in contemplazione di dio e diceva san francesco di lui che gli era domini reverenzia degno però che lui aveva fondato l'ordine di san francesco ed era il primo che perfettamente aveva rinunziato al mondo non serbandosi alcuna cosa ma tutto dato ai poveri di cristo et cominciato la evangelica povertà offrendosi nudo alle braccia del crocifisso qui es benedictus in secula seculorum am capitolo terzo come san francesco molto si umiliò a frate bernardo il divotissimo servo di jesu cristo messer san francesco per la asprezza della penitenzia et continuo piagnere era divenuto quasi cieco che poco vedeva una volta fra l'altro si partì dal luogo dove stava andando ad un luogo dove era frate bernardo per parlare con lui delle cose divine giunto al detto luogo trovò che stava nella selva in orazione levato et coniunto tutto con dio san francesco allora andò nella selva et chiamollo dicendo vieni a questo cieco ma frate bernardo non rispuose niente però che essendo uomo di gran contemplazione stava con la mente sospesa et levata tutta con dio et perché aveva singular grazia di parlare con dio però santo francesco voleva parlare con lui onde passato alcuno intervallo di tempo chiamò la seconda volta et ancor la terza nel medesimo modo et nulla volta frate bernardo mai lo sentì però non li rispuose ne andò a lui partissi santo francesco maravigliato et sconsolato assai siccome frate bernardo in tre volte mai aveva risposto ne andato a lui andando con questo pensiero disse al compagno aspetta un poco qui et andato in un luogo solitario ivi presso posto in orazioni pregava il dio che li rivelasse perché frate bernardo non li aveva risposto stando così gli venne una voce da dio che disse o povero uomo di che sei turbato deve l'uomo lasciare il dio per la creatura quando tu chiamavi frate bernardo era coniunto meco però risponderti non poteva non ti maravigliare se non poteva parlare che tanto era fuori di sé che di tue parole niente udire poteva avuta san francesco questa risposta da dio incontanente in fretta ritornò in verso frate bernardo per umilmente scusarsi dei pensieri contro lui vedutoli vedutolo frate bernardo prestamente si li gettò ai piedi ma san francesco subito lo fece rizzare et con umiltà li narrò i pensieri et la turbazione auta di lui et come il dio l'aveva ripreso et conchiuse così io ti comando in virtù di santa ubbidienzia che tu facci il comandamento mio temendo frate bernardo che san francesco non li comandasse alcuna cosa eccessiva come faceva alcuna volta onestamente volle schifare questa ubbidienzia et però disse et voi promettete ad me di fare quello che io comanderò a voi san francesco li è il promise fare disse frate bernardo padre che comandate ch'io faccia san francesco disse io ti comando per santa ubbidienzia per punire la presunzione e tardire del mio cuore ora ch'io mi gitterò supino in terra tu mi ponga l'uno piede in sulla gola l'altro sulla bocca e te così mi passi tre volte dall'uno lato all'altro e te dimmi vitupero e te vergogna massimamente mi dirai giaci villano figlio di pietro bernardone onde ti viene tanta superbia essendo vilissima creatura ond questo ad frate bernardo molto paresse duro pur per la santa ubbidienzia quanto cortesemente più puo te l'ebbe fatto di poi san francesco disse comanda ora tu quello che vuoi chio faccia in soddisfazione di tua ubbidienzia frate bernardo disse per santa ubbidienzia ti comando che omni volta che insieme siamo aspramente tu mi riprenda e te corregga dei difetti miei di questo si meravigliò san francesco assai però che frate bernardo era di tanta santità che in grandissima riverenzia l'aveva non lo reputando reprensibile d'alcuna cosa sicché da allora innanzi si guardava bene di troppo conversar con lui a ciò che non gli venisse detto alcuna parola degna di riprensione verso di lui che gli pareva uomo di tanta santità ma quando lo voleva vedere o parlare di dio con lui piuttosto che poteva si spacciava da lui onde grandissima divozione era ad vedere con quanta riverenzia ed umiltà San Francesco padre usava et parlava con frate Bernardo figliuolo suo primo genito dell'ordine a laude di Jesu Cristo capitolo quarto come San Francesco andò a Santo Jacopo di Galizia al fondamento et principio dell'ordine quando erano pochi frati et non avevano presi luoghi san San Francesco per divozione andò a Santo Jacopo di Galizia menando seco al quanti frati fra i quali fu frate Bernardo i quali andando così insieme per la via trovarono in una terra un povero infermo onde avendoli compassione Santo Francesco disse a frate Bernardo figliuolo io voglio che tu rimanga qui a servire questo malato frate Bernardo umilmente inginocchiatosi et techinando il capo ricevette l'ubidienzia et rimase in quello luogo Santo Francesco e compagni andarono a Santo Jacopo ove giunti che furono et stando in orazione la notte nella propria chiesa fu rivelato da Dio a San Francesco che doveva prendere molti luoghi per lo mondo che l'ordine suo si doveva dilatare et crescere in gran moltitudine di frati per questa cagione cominciò lui a pigliare dei luoghi in quei paesi ritornando poi per la via di prima trovò frate Bernardo e lo infirmo con cui l'aveva lasciato perfettamente guarito onde San Francesco concedette l'anno seguente a frate Bernardo che andasse a Santo Jacopo tornato Santo Francesco poi nella valle di Spuleto stavasi in un luogo deserto con frate Masseo frate Elia ed alcuni altri quali per gran riverenzia che avevano al padre Santo Francesco molto si guardavano non li dare alcuna noia nel suo stare in orazioni massime che nelle contemplazioni sue li rivelava grandissimi misteri iddio avvenne che stando lui in orazioni undì nella selva un giovane molto bello apparecchiato ad camminare venuto alla porta del monastero la picchiò si forte in tanta fretta e per si lungo spazio che gli frati si maravigliarono molto di si disusato modo di picchiare onde frate masseo aperta la porta li disse onde vieni tu figliolo che non pari ci fossi mai più tanto disordinatamente hai picchiato rispose lui come si deve picchiare disse frate masseo picchia tre volte l'una dopo l'altra di rado poi aspetta tanto che il frate dica il pater nostro et venga ad te se in questo intervallo pur non venisse picchia un'altra volta e lei ovane disse io ho gran fretta però si forte picchio che ho da fare un gran viaggio qui venivo per parlare a frate francesco ma perché sta nella selva in contemplazione non voglio storpiallo ma va mandami frate elia al quale voglio proporre una questione che io intendo è molto savio e dotto adunque andò frate masseo e ti dice l'ambasciata a frate elia scandalizzato frate elia andar non vi vuole onde frate masseo non sa che fare né che rispondere alle iovane però dicendo frate elia non può venire mentiva se diceva che era turbato temeva non darli male esempio et però che stava tanto a tornare il iovane picchiò un'altra volta come prima torna frate masseo e ti dice tu non hai servata la mia dottrina nel picchiare disse il iovane frate elia non vuole venire ad me va dia frate francesco chi io venni per parlare con lui ma perché non voglio impedire dall'orazione che mi mandi frate elia allora frate masseo andò a san francesco che orava nella selva con la faccia al cielo levata al quale disse l'ambasciata delle iovane ette così la risposta di frate elia quelle iovane era l'angelo di dio in forma umana onde san francesco non mutandosi di luogo né abbassando la faccia disse ad frate masseo va frate elia e digli che per ubbidienzia vadia quelle iovane udito allora l'ambasciata frate elia da parte di san francesco per ubbidienzia andò a quelle iovane et molto turbato con gran timore et con empito aperta la porta disse che vuoi tu rispose il iovane io domando se agli osservatori del santo evangelio è licito mangiare di ciò che a loro è posto innanzi secondo che cristo disse a discepoli suoi et ancora se ad alcuna persona è licito di por loro innanzi alcuna cosa contraria alla libertà evangelica frate elia superbamente risponde io so ben questo ma rispondere non ti voglio va pe fatti tuoi disse il iovane io rispondere a questo so meglio che non sai tu allora frate elia molto con furia serrò la porta et partissi ma cominciò ad pensare poi sopra la ditta questione et dubitando fra sé medesimo non la sapere assolvere massime ricordatosi che parlando con ira il iovane gli aveva detto guarda non esser turbato come tu dimostri però che l'ira impedisce l'animo et non lascia conoscere il vero però che frate elia era vicario dell'ordine et aveva fatto costituzione oltre il vangelio et sopra la regola di san francesco che nullo frate dell'ordine dovesse mangiar carne sicché la ditta questione espressamente era contra lui adunque dubitando non saperla chiarire et considerando la modestia dell'iovane et che aveva detto meglio di lui saperla assolvere torna alla porta per domandarne il detto iovane ma non lo trovò che s'era partito però che la superbia sua non meritava parlare con l'angelo fatto questo san francesco al quale omnicosa da dio gli era stata rivelata tornato dalla selva ad alta voce fortemente cominciò a riprendere frate elia dicendo malfate frate elia superbo che cacciate da noi gli angeli santi quali ci vengono ad ammaestrare io ti dico che io temo la superbia tua ti faccia finire fuori di questo ordine e così li addivenne poi che fuori dell'ordine morì e il di medesimo nell'ora propria che l'angelo si partì nella medesima forma apparì a frate bernardo tornando da santo jacopo essendo alla riva d'un gran fiume e salutatolo in sua lingua li disse iddio ti dia pace o buono frate maravigliandosi frate bernardo et considerando la bellezza et eloquenzia sua con la salutazione così pacifica et faccia lieta rispuose et domandò onde vieni tu giovane rispuose vengo dal cotale luogo ove dimora san francesco et andavo per parlare con lui ma non ho possuto perché elli stava nella selva a contemplare le divine e tal te cose onde sconciare non vogli in questo luogo dimorava frate elia et frate masseo qual frate masseo mi insegnò a picchiare la porta come fanno li frati ma frate elia però che non mi volle rispondere della questione che io li propusi se ne pentì poi et mi volle vedere e tu dire ma non pote l'angelo disse poi a frate bernardo perché non passi questa fiumara rispose temo per la profondità dell'acqua disse l'angelo passiamo insieme non dubitare poi presa la sua mano in un batter d'occhio lo passò dall'altra parte del fiume allora conobbe frate bernardo che era l'angelo di dio e con gran reverenzia ad alta voce disse agnolo di dio dimmi il nome tuo rispose e dice maraviglioso è il nome mio detto questo sparve lasciando frate bernardo tutto consolato per modo che tutto quel viaggio con molta allegrezza fece e notato il di et ora che apparito gli era iugnendo poi al luogo dove san francesco co compagni stava ordinatamente omnicosa recitò loro e certamente conobbono come il medesimo angelo nel medesimo di et ora a parve a loro et a lui onde ringraziarono i dio a o o o o o o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.